Quando vedo un film tratto da un libro che ho letto vengo privato di qualcosa e cioè della mia immaginazione, quando leggo un libro io immagino le scene, le stanze, le facce delle persone e anche le loro voci, sono io il regista di quella storia che sto leggendo, quando la vedo trasportata in un film, quel film diventa l'unico formato possibile, il formato definitivo di quella storia. Io non posso più leggere il Gatto Pardo senza vedere il faccione di Bart Lankasper, che è stato sopra la faccia del Conte di Salina, del Principe di Salina. Dunque penso che tra una storia scritta e un film c'è tutta la distanza che passa tra un'isola e la terra ferma. Dipende in che arcipelago si trova. Quando vedo un film che è stato traduzione da un libro che ho letto, ho sentito che sono robbato di mia immaginazione. Perché quando vedo un libro, ho immaginato le cose e le faces di cui ho letto, e io sono la direzione di quella storia. Quando un libro è traduzione in un film, il film diventa l'unico e l'unico formato della storia. Quindi, per esempio, non posso leggere il Leopard senza vedere in cui ho visto Bart Lankasper's big face in fronte a me. Between a written story and its own version of the film, there is a distance, the same distance that is between an island and an actual continent. So, it really depends where that continent is located.